Monsignor Carlo Maria Viganò contro Papa Francesco, Monsignor Carlo Maria Viganò è accusato di scisma, infatti lo sappiamo tutti che Monsignor Viganò non vuole bene a Papa Francesco, forse invidia, ma Monsignor Carlo Maria Viganò non c'è mai stato dopo San Pietro non c'è mai stato un Papa bravo come Papa Francesco, te lo dice Serafino Massoni, pensa che Papa Francesco vuole bene pure alla Russia di Vladimir Putin, infatti Papa Francesco ha detto che Vladimir Putin ha invaso l'Ucraina perché la Nato si stava allargando troppo, a te non piace tutto ciò, Monsignor Carlo Maria Viganò, allora mettiti l'anima in pace, capito, a te e a tutti voi, tanti cari saluti dalle migliori opere di Serafino Massoni grazie a tutti grazie a tutti